Partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juve in gol dai ragazzi! C'è un po' di capo a sinistra per Alexandro, va al recupero su di lui, è errato Sassuolo, allora Alexandro la può mettere in mezzo per McKennie, la conclusione col Mancino, ribattuta di Bala, col Mancino, gol, gol, gol! La Juve in gol, subito una gioia, con Paolo Di Bala, dopo tre minuti, Juventus 1, Sassuolo 0, con il numero 10, Paolo Di Bala! Ah, sbaglia l'apertura Bonucci, attenzione, serve Berardi, il tiro! Il salvataggio in tuffo di Perin che mette in corner! Traoré, tira Coppolo senza entrenare, sinistro, altra smanacciata a respingere di Perin, poi Berardi sbaglia completamente la mira, avanza verso l'area di rigore, chiede o tiene lo scambio, entra dentro l'area Traoré, il tiro! E il gol del Sassuolo, pareggio di Traoré! 23 minuti e 16 secondi, guarda l'area, il cross, è per la testa! Bella, bella! Nuovamente parità numerica, sbaglia, tutto il Sassuolo, contro l'attacco di Vlaovic, Vlaovic entra l'area di rigore sul destro! La parata nel portiere, anche Vlaovic gli ha praticamente tirato addosso. Paolo, punta l'uomo, Paolo ce l'ha sul mancino, limite, delict, delict, vede bene McKennie, la conclusione, giro, palo! Di Weston McKennie, incredibile! Dentro per Vlaovic, sinistro! Chiude le gambe, pegolo e mette in corner. Vediamo il cross per McKennie! Grande parata, poi palo, la pala ancora lì, altro palo, traversa! Incredibile cos'è successo in quest'azione sotto porta. Scamacca, sbaglia, l'appoggio serve Vlaovic, che ne è scaborata davanti al portiere, Morata col mancino, tocco sotto! A palombella, il guantone di pegolo, abbiamo sciuppato un'altra incredibile palla a gol. La rimessa lunga di McKennie, la sponda che diventa un tiro, addirittura in porta di Rabiot, smanaccia ancora pegolo in corner. Bene dentro l'area per De Ligt, De Ligt da centra avanti, in altra parata, centrale di pegolo con i piedi. Vicino alla bandierina del corner, attenzione, buon movimento di Vlaovic, che entra in area di rigore, resiste, un assalto, Vlaovic, destro, deviato, gol! Gol, gol, gol! La Juve in gol! Dujan, e basta! Due a uno per noi! L'apertura di Paolo Esterna, Vlaovic guarda in area, vede che ancora non c'è nessuno, allora pensa, faccio da solo, scivola sul corpo di Muldura, entra in area, resiste, col sinistro se la mette sul destro, si prende la deviazione di Ruan, e il gol! Ed è finita! Arriva uno, arriva due, arriva tre! Grazie! Grazie a tutti